In Abruzzo si registrano 314 nuovi casi di coronavirus, 11 morti, tra cui una persona di 52 anni. Calano invece i casi nella Marsica e in un giorno si sono registrati 19 positivi. I test antigenici per il Covid-19 ora potranno essere eseguiti anche in farmacia. A comunicarlo è l'assessora alla salute Nicoletta Verì. Il servizio potrebbe essere attivo già dai prossimi giorni. Non ce l'ha fatta il piccolo Samuel, bambino di soli 5 anni, marsicano affetto da una grave malattia genetica. Tante sono state negli anni le raccolte fondi organizzate per aiutarlo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella sua famiglia e in tutta quanta la comunità marsicana. La città di Avezzano ha il suo plesso antisismico e all'avanguardia. È stata inaugurata proprio oggi la scuola di via Pertini, una struttura sicura con spazi ampi e luminosi e a basso impatto ambientale. Tutti gli approfondimenti sui nostri giornali. Abruzzo Live e Marsica Live.